Dopo il boom dei voli Ranaer, l'aeroporto di Reggio Calabria, dello stretto il Tito Minniti, continua a crescere e diventa appetitoso anche per Ita, che incrementa, l'operativo da Milano Linate sull'aeroporto di Reggio Calabria nella stagione invernale 2024-2025, accogliendo le istanze del territorio calabrese, a conferma dell'interesse della compagnia per la connettività della Calabria e per la mobilità dei suoi cittadini. Dal prossimo primo novembre, dunque, Ita opererà una frequenza giornaliera addizionale sull'aeroporto di Reggio rispetto alle due attuali, con partenza dall'aeroporto calabrese alle ore 6.15 e arrivo a Milano Linate alle 7.55 e rientro da Milano Linate alle 21.20 con arrivo a Reggio alle 23.05. Tale soluzione consente ai regini di poter fare un viaggio di andata e ritorno in giornata su Milano. Soddisfatti il governatore Roberto Chiuto e l'onorevole Francesco Cannizzaro, che si sono spesi molto per il rilancio del Tito Minniti.